Grazie mille per questo invito e appunto, visto che non siamo tanti, in qualsiasi momento ci fossero delle cose che non sono chiare e mi fermate e c'è una presentazione e possiamo anche fregarsene totalmente e andare nella direzione che volete voi. Prima però di affrontare e capire bene cos'è una fondazione di comunità, bisogna capire qual è l'obiettivo? L'obiettivo è raccogliere sfondi o promuovere il dono? A prima vista potrebbe essere un discorso di lana caprina, nel senso che le donazioni poi si trasformano chiaramente in risorse, però in realtà è un punto veramente fondamentale, perché da un lato ci si concentra appunto sulle risorse, dall'altro il concetto sulle relazioni e tendenzialmente nel lungo periodo concentrare sulle relazioni aumenta anche le risorse, però non necessariamente così nel breve e comunque è una scelta di fondo. Quello che posso dirvi è che nell'esperienza internazionale è che quando una fondazione di comunità è nata principalmente con l'obiettivo di raccogliere risorse non ha fatto una grande strada, perché poi si basa su queste relazioni da portare avanti. Quindi se l'obiettivo è principalmente rispondere ai soldi, ci sono altri strumenti, strumenti classici di fundraising che magari sono più efficienti da questo punto di vista. Quindi questo è una cosa da avere bene in mente, proprio come principio. Ma per cercare di rispondere a questo quesito forse conviene fare un passo indietro e chiedersi quindi la crisi presente, questa riunione nasce chiaramente, è stato detto, dalla crisi che stiamo vivendo. Allora la crisi presente è tendenzialmente una crisi congiunturale o strutturale? Perché questo è importante da capire, perché se è congiunturale si tratta di stringere i denti, aspettare che la curva vada avanti e poi si riprenderà ad operare. E quindi tendenzialmente le operazioni da fare sono operazioni di razionalizzazione, di gestione che mantengono più o meno l'assetto. Diverso, chiaramente diverso, è l'approccio se siamo convinti che la crisi che viviamo sia una crisi strutturale. Ora, se noi ascoltiamo la maggior parte degli analisti, quasi tutti dicono che è una crisi strutturale. Se noi guardiamo le politiche che vengono messe in opera, sono chiaramente congiunturali. Quindi c'è un problema qui da affrontare. Ora, se la crisi è strutturale, pensare di risolverla rimanendo dentro lo schema culturale che l'ha generata, tendenzialmente è fallimentale. Cioè, Einstein, tutti una serie di soggetti dicono che quando il problema è strutturale dobbiamo trovare un punto fuori, una leva esterna al problema, se no ci rimaniamo dentro. E quindi la sfida è capire se l'attuale cultura, l'attuale modo di pensare, la società non abbia dimenticato un elemento, un fattore, una pietra scartata dai costruttori su quale è possibile ripensare una società diversa. Questo, se vogliamo, è la sfida, a mio avviso, importante, se si ammette che la crisi è strutturale. E una cosa è sicuramente il dono. Il dono è stato assolutamente negato, eliminato da quella che è la cultura che si fonda sull'idea marginalista, sul pensiero strumentale, sulla razionalità formale, insomma, ci sono tante definizioni, ma che ha negato l'esistenza del dono. O l'ha ridotta a qualcosa di puramente privato, intimo, che non aveva alcuna influenza a livello sociale. A mio avviso questa negazione nasce anche dal fatto che spesso si lavora in termini altruismo-egoismo, che non hanno senso, perché nel dono uno fa un sacrificio e ottiene un beneficio. E quindi nella razionalità strumentale non ha senso, è un cortocircuito, come faccio di sacrificare e ottenere un beneficio. Ma è questo quello che succede realmente nel dono. Ora, l'ipotesi che vi presento è che questo concetto possa diventare appunto questa pietra su cui creare una nuova comprensione della società in cui viviamo. Cosa significa? Significa cercare di capire se il dono, in quanto tale, non ha significato semplicemente personale o intimo, ma abbia un significato sociale, economico e poi umano, più in generale. Ora, non c'è studioso che non dica, che non rilevi l'importanza di quel cosiddetto capitale sociale. Oggi è tutti i pensieri comuni. Ora, è evidente che il capitale sociale che è fatto di fiducia, che è fatto di relazioni, trova proprio nel dono una sua fonte fondamentale. Se non c'è questo atto di scommessa, perché nel dono io scommetto, nell'altro il dono è scambio, non è negazione di scambio, ma uno scambio che non è vincolato contrattualmente, per cui io dono e posso rimanere fregato. Nel senso che dono e l'altro, anzi, mi sputo in faccia, neanche non mi ringrazio e vincendo. Però è quello che crea poi fiducia, che crea relazione, che crea rapporto. E quindi è quello che in qualche modo crea le condizioni per la coesione sociale, perché la società sia veramente tale, perché la comunità sia veramente tale. Questo capitale sociale ha chiaramente un impatto a livello economico. Non c'è studioso che non noti come, in funzione della presenza o meno di un elevato capitale sociale, c'è uno sviluppo meno dal punto di vista economico. L'analisi di Patnam sui rapporti nord e sud, in cui mostra come c'è una relazione diretta tra capitale sociale e sviluppo economico. Ma a parte questo discorso che è patrimonio comune, in cui nessuno lo nega, nessun studioso lo nega, il dono rappresenta anche una maggiore efficienza nella gestione. Faccio un esempio stupidissimo. Se io ho bisogno di un uovo in casa mia e ho un rapporto umano col mio vicino, in 30 secondi vado, mi faccio dare l'uovo e faccio quello che devo fare. Dopo, quando andrò al mercato, comprerò un uovo in più, lo restituisco e la cosa finisce lì. Ma se io questo rapporto con il mio vicino non ce l'ho, devo andare a uscire e comprarmi questo uovo, che già abbia un peso, ma se io devo aspettare a casa perché devono tornare i bambini, diventa un suicidio. Quindi quell'operazione che, se c'è relazione, diventa costo praticamente nullo, rischia di invece avere un costo economico rilevante. Ma al di là di questo aspetto, c'è un altro aspetto ancora più importante. E che l'analisi dei vari studiosi economisti ha assolutamente tralasciato con delle conseguenze trasiche è il fatto che nell'attività lavorativa di ognuno di noi, ognuno di noi ci mette parecchio di doni. Ognuno di noi, quando lavora, sperabilmente, non fa esclusivamente quello previsto dal contratto, ma ci mette sempre di più. E non è che poi venga controllato, perché non è possibile controllare questi aspetti qua. E questo dono è quello che fa funzionare l'impresa. A partire dallo stesso imprenditore che è una boiata, che uno fa un'impresa per guadagnare. Il guadagno è condizione e conseguenza del fatto che io lavoro bene. Ma se io lavoro esclusivamente per guadagnare, faccio la finanza, non faccio un'impresa. Sono tutto diverso. Ma anche qualsiasi collaboratore, nel momento in cui lavora, ci mette normalmente di più. Poi, se rimane trattato male e fregato, poi alla fine magari smette. Ma con danno suo è dell'impresa. E se questo dono non viene in qualche modo gestito, è il fallimento. Io abito sul lago di Como e mi hanno raccontato che c'erano tantissime imprese un po' di anni fa e i padroncini di queste imprese, che avevano un paretto successo, hanno mandato i loro figli a studiare a Harvard, tutte queste robe qui, i figli sono tornati e le imprese sono fallite pochissime. Perché? Implementando tutti quei principi che magari ottengono sul corto dei risultati strabilianti, ma distruggono quelle relazioni che facevano sì che l'impresa funzionasse. E quindi togliere il dono, non partire dal dono anche in termini puramente economici, rischia di distruggere l'economia. E questo è un qualcosa e lo vediamo. La crisi, il modello McKinsey ha avuto degli effetti devastanti. La crisi in cui viviamo nasce proprio dalla conseguenza di queste impostazioni, che dimenticava questo pezzo, per guardare tutti gli altri pezzi, ma perdeva. Per cui si arriva all'assurdo in cui il manager, proprio mentre porta i libri in tribunale perché l'azienda è fallita, ha diritto al bonus, perché effettivamente ha raggiunto i suoi obiettivi. I suoi obiettivi li ha raggiunto tutti, però l'impresa è fallita. Questo è... ma quindi se il dono può avere un significato sociale, se il dono può avere un significato economico rilevante, è fondamentale che abbia un significato umano. Perché se non avesse un significato umano, tutto il mio discorso sarebbe un discorso puramente retorico, moralistico, e quindi lascia esattamente il tempo che trova. Ora l'idea che sta alla base è che il dono risponde a un'esigenza antropologica, profonda in ciascuno di noi, che soprattutto nella cultura non possiamo negare, senza negare noi stessi. Ed è questa idea che il dono non è un sacrificio, ma il dono è un'opportunità. Perché il dono è un'opportunità? Beh innanzitutto è un'opportunità in termini di riconoscimento. Ognuno di noi ha bisogno di essere riconosciuto il suo valore. Adam Smith, nella ricchezza delle nazioni, parla dello spettatore invisibile, che certi mesi può essere la nostra coscienza. Insomma, noi abbiamo bisogno che il nostro spettatore invisibile approvi quello che stiamo facendo, se no, ed è questo molto più che l'interesse, la passione da avere, quello che ci muove ad otterrare anche i termini economici. Dal padre dell'economia di mercato esce fuori questa indicazione, quindi non è proprio una donna fonte non rilevante a questo punto di vista. Ma oltre a riconoscere, e chiaramente donare, ci dà una reputazione verso noi stessi di un certo tipo. Ma una delle esigenze più forti oggi è quella di relazioni. Noi siamo esseri relazionali. Noi non entriamo in relazione con l'altro semplicemente in via strumentale. Questa è una visione hobsiana, ma una visione falsa, che non risponde alla verità di ognuno di noi. Noi abbiamo bisogno di relazionarsi con l'altro. E noi viviamo per una società in cui la relazione è strumentale, è strumentalizzazione reciproca, ma se è strumentale non è più relazione umana. Il dono ci permette di rompere questa cosa e avere relazioni veramente umane col prossimo perché è uno strumentale. E quindi rispondere a uno dei bisogni più importanti, più impellenti che ognuno di noi vive, sente in prima persona. Un'altra esigenza fondamentale a cui la nostra società non è in grado o in grado in modo inadeguato di dare una risposta è quella dell'identità, del senso della propria vita. L'idea che la nostra vita possa essere semplicemente la crescita che ha dominato, io cresco, cresco, cresco e quello è, alla fine si sta affivelando un suicidio, un ponte di alienazione. Quindi abbiamo bisogno di qualcos'altro. Abbiamo bisogno di dare un senso, abbiamo bisogno di dare un significato al nostro agire. Se no, la nostra esistenza si trasforma, come diceva Nietzsche, in una perpetua lotta per soddisfare in modo effimeri, effimeri bisogni. Un qualcosa che è un suicidio. L'uso delle droghe secondo me non è senza rapporto con questa incapacità della cultura di dare un senso all'esistenza. Beh è chiaro il dono lo dà. Nel momento in cui inizio a donare, questo mi riempie la vita. E mi riempie la vita di un'altra cosa, di emozioni. Tutti voi potete raccontarvi delle emozioni che trovate quando fate volontariato, quando fate... che sono indescrivibili. E l'uomo oggi ha un disperato bisogno di emozioni. E lo vede dalla pubblicità, dove ci sono parecchi miliardi in gioco e quindi sanno dove battere il chiodo. E oggi non ci vendono prodotti, ci vendono emozioni. Perché sanno esattamente che quello di cui noi abbiamo disperatamente bisogno sono emozioni. Ora l'emozione che ci può dare un deodorante e l'emozione che ci può dare un dono sono radicalmente diverse. E quindi c'è forte bisogno di questo punto di vista. E questo che spesso anche il privato sociale non se ne rende conto. Non capisce che può offrire qualcosa... non è lì a chiedere, ma offrire un'opportunità alle persone perché queste possono veramente affermare se stesse. Del resto, non c'è donatore. Donatore vero che non dica, che riceve molto di più di quello che dà. È matematico, non ce n'è uno che non dica questo. Perché è vero. Ora, se ciò è vero, come mai non si dona? Questo è il quesito che ci dobbiamo imporre. E non si dona perché la nostra società, a parte il fatto che abbiamo il peccato originale, abbiamo tutta una serie di limiti da questo punto di vista che ci impediscono di realizzare veramente noi stessi, ma ci sono tutta una serie di ostacoli di natura sociale. Il primo ostacolo è che viviamo in una società dominata dalla distrazione. Il divertissement, dice Pasquale. Il divertissement è divergere l'attenzione da cose veramente importanti. Ora, quelle cose che ho detto prima, chiunque, se si ferma un secondo, le riconosce come vere. Però se uno non si ferma mai, non fa fatica a riconoscere. Se siamo sempre in agitazione, in corsa, facciamo veramente fatica a cogliere queste verità. E quindi noi viviamo, però abbia ragione. E questo, un altro elemento, è la frenesia. Noi viviamo in una società estremamente frenetica. Magari non ci spostiamo di mezzo millimetro, ma siamo lì che corriamo, se ci cerchiamo come dei macchi, sempre liamo. E questo fa sì che spesso, sempre più spesso, facciamo fatica a trovare il tempo per fare le cose che pur riputiamo fondamentali. Perché queste cose non hanno scadenze. Io posso anche fare domani, dopodomani. E le cose anche più idiote, ma che hanno una scadenza, finiscono necessariamente a fare agiosi, a prevalere. E qui noi finiamo per fare le cose che in realtà sono irrilevanti, che se non le facessimo non succederebbe niente, anzi sarebbe quasi meglio, ma che però finiscono per farci e fare. Quindi diventa una... E qui se voi ascoltate, guardate i sondaggi su perché la gente non dona, una delle prime ragioni è perché manca l'occasione. Se non si crea l'occasione, la gente non dona. E' necessariamente spostata a fare altrove. Poi è chiaro, abbiamo anche un grosso problema di sfiducia. È chiaro che abbiamo una società che ha favorito l'idea che ognuno deve fare i fatti suoi e basta, e quindi c'è un deficit di sfiducia. Quindi bisogna creare delle garanzie. Bisogna creare degli ambienti favorevoli affinché io possa donare. Un progetto che porta avanti è una fondazione che si sta rifondendo anche qui in Emilia, proprio a livello di politiche regionali, che è l'affido di famiglia, per cui una famiglia in difficoltà viene affiancata da una famiglia che sta un po' meglio, quindi si può collaborare. In realtà la logica qual è? è creare un ambiente protetto affinché le persone possono aiutarsi. Perché se no, uno non è che non aiuta l'altro perché non vuole aiutare l'altro, ma perché ha paura. Ha paura che magari se c'è da aiutarlo finita denunciato. Una volta, se un adulto vedeva un bambino che si comportava male, interveniva. Oggi stai ben attento perché rischi di peccarsi una denuncia se intervino. E quindi hai bisogno di crearti degli ambienti per poter manifestare realmente quella che è la propria generosità. Cioè la nostra società è strutturata per permetterci di fare le cose peggiori, ma non è assolutamente strutturata per aiutarci a fare le cose migliori. E quindi finiamo per non farle. altro elemento fondamentale è la disinformazione. Noi sappiamo quello che accade in Iraq o in Pakistan, ma facciamo veramente fatica a sapere le opportunità che ci sono accanto a noi. Le cose belle che senza fare particolarmente fatica potremmo fare avendo un beneficio per noi. Questa informazione ci manca. Quindi non sappiamo. Quante volte uno dice, ah io vorrei fare qualcosa, poi non sa cosa fare e non lo fa. Ragioni evidenti. E questo ci porta al sentimento di impotenza. Nel momento in cui creiamo una società atomizzata, in cui ognuno è isolato, è chiaro che io per quanto possa essere ricco, sono impotente. Le cose sono sempre più complicate, quindi io sono isolato e non posso farle. Non trovo proprio il modo per farle. Quindi bisogna trovare degli strumenti che rompano questo isolamento, che facciano così che le persone possono effettivamente mettere assieme le risorse che purano, evitando quello che è, a mio avviso, la vera sfida della nostra società, evitando che le risorse positive che pur ci sono vadano disperse o addirittura si trasformino in risorse negative. Perché il vero problema è questo, che noi siamo una società ricca, estremamente ricca, però non riusciamo a trovare le risorse per fare le cose più basilari. Qui occorre ripensarci un po' il tutto. A ciò si aggiungono le difficoltà pratiche. Noi abbiamo una società complessa e quindi qualsiasi cosa implica tutta una serie di adempimenti burocratici formali, di tutta una serie di funzionalità che alla persona normale trascendono. Abbiamo bisogno di andare in giro sempre con l'avvocato commercialista e via dicendo, cosa che chiaramente non è fattibile, non si riesce a fare. E quindi o troviamo degli strumenti per eliminare queste difficoltà o non si riesce a fare. E in più, infine, ci sono i costi. È chiaro che se io posso mettere delle risorse, queste risorse mi costano una marea, alla fine non lo faccio. Quindi occorre una cosa che sia anche economica da questo punto di vista. Quindi, sulla base di questo ragionamento diventa fondamentale creare un'infrastruttura sociale. Un'infrastruttura sociale che abbia come obiettivo proprio quello di aiutare a donare. Cioè, se non si crea questa infrastruttura, diventa estremamente difficile donare. Non è semplicemente poca buona volontà. È proprio che ci sono degli ostacoli reali. E se o creiamo degli strumenti per superarli, o la gente non può donare, fa fatica a donare. Ed è questo un ruolo che ha sviluppato la filantropia istituzionale creando appunto questa idea di intermediazione filantropica di cui le fondazioni di comunità sono un esempio. È il settore di massimo sviluppo della filantropia istituzionale nel mondo. È un settore di grande crescita. intermediazione. Perché risponde a quei problemi a cui accennavo prima. Ora, cosa sono queste fondazioni di comunità? Innanzitutto, la loro missione è quella di promuovere la cultura del buono. Da aiutare la gente a donare. Non hanno come missione quello di risolvere o di finanziare i progetti. Sono conseguenze, chiaramente. Se io ho dovuto donare, poi questi soldi finiranno a finanziare i progetti e le iniziative. Ma l'obiettivo è quello di aiutare la gente a donare. Sono enti indipendenti, senza finalità di lucro e di norma in Italia con caratteristiche ONU. Ultimamente siamo riusciti ad ottenere una serie di modifiche anche normative e di interpretazione che rendono la cosa più fattibile. Anzi, fattibile e funzionale. Normalmente sono enti che non gestiscono in prima persona progetti. Sono enti che erogano contributi, ma non gestiscono progetti. E poi spiegherò perché normalmente questo non viene fatto. Dico normalmente perché sono dei casi in cui gestiscono. Le fondazioni di comunità in Germania, per esempio, tendenzialmente gestiscono progetti. Per cui sono scelte di fondo. Operano in un determinato territorio. La loro caratteristica è la comunità, in senso comunità geografica, e sono nate per offrire a tutti la possibilità di godere dei benefici della filantropia istituzionale. Cos'è sta roba, i benefici della filantropia istituzionale? Un tempo la filantropia istituzionale era beneficio non dei ricchissimi, ma dei ricchissimi. Non proprio degli ultraricchi. Solo questi hanno le risorse per crearsi una loro fondazione, per crearsi tutti gli strumenti necessari, per creare una fondazione costi. È una roba che costa dei costi fissi non irrilevanti. E quindi io ho una massa di un certo tipo o i costi sono superiori ai benefici. Quindi non mi serve niente. Diventa un elemento favore. Ebbene, queste intermediarie come funzionano? Praticamente è come se creassero una fondazione ospitante. In Francia c'è proprio una normativa, fondazioni Abrite e Abritont. In Germania, in Svizzera le chiamano Dappstiftung, fondazioni Teton. Per cui io creo un'infrastruttura che metto a disposizione dei tutti i donatori. Ogni donatore può creare all'interno di questa casa la propria sottofondazione, ne chiamate in alcuni posti, oppure fondo, chiamate come volete. Godendo di tutti i benefici dell'infrastruttura esistente. Per cui non mi devo ricreare una nuova struttura. Quindi ho dei costi marginali, invece di avere i costi strutturali. In questo modo, chiunque, io stesso, che non sono particolarmente ricco, ho un fondo presso la Fondazione Comasca. Se voi, magari se c'è tempo, vi faccio vedere. Se voi andate sul sito della Fondazione Comasca e nei fondi scrivete il mio nome, Bernardino, troverete che c'è il fondo Monica Bernardino, che è il mio fondo che io utilizzo per gestire, in modo professionale, economico ed efficiente, le donazioni che ogni anno voglio destinare per finalità di utilità sociale. E questo senza appunto, con risorse molto molto ridotte, niente di particolare. Ora, per fare questo, per eliminare quei principi, quegli ostacoli che citavo prima, le fondazioni di comunità cosa garantiscono? Garantiscono sicurezza, semplicità, flessibilità, economicità e efficacia. E come fanno a garantirlo? Partiamo dalla sicurezza. Le garanzie. Allora, innanzitutto c'è una sicurezza in termini legali. Le donazioni vengono fatte tendenzialmente utilizzando lo strumento della donazione modale. La donazione modale stabilisce che, qualora, praticamente, io donante dono ponendo dei vincoli. Questi soldi non sono utilizzati per questa, questa, cosa. Nel momento in cui la fondazione che riceve la donazione e accetta la donazione, accetta anche tutti i vincoli collegati alla donazione. Qualora non dovesse rispettarli, chiunque, quindi non solo il donante, ma chiunque abbia interesse, può chiedere l'intervento del giudice per far sì che la fondazione rispetti. Quindi abbiamo una tutela di natura legale. Ma, al di là degli aspetti legali, c'è una tutela che chiamerei quasi di mercato, nel senso. Compito della fondazione è quello, chiaramente, di attirare sempre i maggiori donatori. È abbastanza normale che il nuovo donatore, o il potenziale donatore, una delle cose che andrà a vedere prima di fare la donazione è, vediamo come la fondazione ha trattati vecchi, perché se è trattati male, sarà un po' difficile che ci metta io anche nei soldi. E quindi c'è una, se vogliamo, una pressione proprio strutturale a far sì che la fondazione rispetti al meglio e sfrutti al meglio le risorse dei donatori. Cosa che non c'è, per esempio, se io faccio la mia fondazione autonoma. Perché la mia fondazione autonoma, di fatto, è sotto il controllo di nessuno. Affrettamente è sotto il controllo della regione, piuttosto che della prefettura, ma vi garantisco che li fate sotto il controllo di nessuno. E quindi, se una volta che l'ho fatta, dopo un po', quando magari non ci sono più io, gli amministratori si stancano, non hanno voglia, così la fondazione si blocca. E so di diverse fondazioni, che hanno anche dei patrimoni non irrilevanti, che assolutamente sono delle manomorte. Non fanno più niente. Perché semplicemente la gente è sottufata. Oppure, che avevano degli obiettivi, questi obiettivi nel frattempo sono diventati non più rilevanti, da mettere in moto tutte le procedure per cambiare le finalità, è comunque oneroso, lasciamo perdere e le cose rimangono lì. Non c'è nessuno che abbia interesse a farle muovere. Oppure, semplicemente, i nuovi consiglieri si dimenticano totalmente della volontà del fondatore. Un esempio famosissimo è la fondazione Ford, che fa sicuramente le ottime cose, ma fa sicuramente l'esatto contrario di quello che avrebbe fatto nel riforme. Questo non c'è il minimo dubbio. E quindi, questi sono aspetti che, in una fondazione autonoma, non posso garantirmi. Perché è impensabile un intervento, attualmente, l'intervento delle autorità di controllo per garantire, me, fondatore, che nel futuro la mia fondazione faccia quello per cui è stata costituita. E nel resto, il consiglio di amministrazione della fondazione, di norma, viene creato con questa logica di garanzia. È un consiglio che nasce per garantire che la volontà dei donanti vengono sempre rispettate al meglio. Un altro elemento di garanzia è una garanzia contabile. Queste fondazioni in Italia hanno una gestione contabile molto particolare, nel senso che non si limitano alla partita doppia, ma fanno di fatto una doppia partita doppia. Cosa vuol dire? Che ogni scrittura è fatta due volte per tenere traccia sia della natura che della destinazione. In questo modo io ho una completa tracciabilità. Senza questo doppio passaggio mi perdo la tracciabilità. Mentre io, in questo modo, posso mostrare che ogni soldo che è nato con certi vincoli, poi effettivamente questi vincoli li abbia rispettati fino alla fine, fino a quando questi soldi sono usciti per erogare questi progetti. Quindi abbiamo, da un punto di vista contabile, un'assoluta trasparenza, che vi garantisco che è abbastanza unica. Un altro tipo di garanzie vengono dalla possibilità di mettere a disposizione una sorta di controllo sociale. Queste fondazioni, sempre meno in Italia, hanno sviluppato o utilizzano un sistema informativo abbastanza avanzato, per cui tutte le erogazioni, tutti i progetti, tutte le informazioni che il donatore non vuole che rimangano riservate, ma tutte quelle che in automatico vengono pubblicate sul sito. E quindi chiunque può verificare che effettivamente la fondazione opera in modo corretto e, insomma, c'è la massima pubblicità da questo punto di vista. Un altro tipo di garanzia è nei confronti dei beneficiari ultimi. Nel senso che quando io dono ad un ente, non ho sempre la possibilità di verificare come quell'ente abbia effettivamente utilizzato questi soldi. Ed essendo persona fisica, farò fatica a ottenere la rendicontazione, cioè non me la danno, poi non vanno neanche a chiedere, insomma diventa complicato. La fondazione invece fa questo per il mestiere. E quindi verifica che effettivamente, se io ho trovato un contributo per quella cosa, tu effettivamente hai trovato i soldi esclusivamente per quella cosa. E queste informazioni lo mettono chiaramente a disposizione dei donatori. Quindi hanno una garanzia anche nei confronti di questi soggetti. Una garanzia anche in termini fiscali. Forse voi sapete o non lo sapete, comunque ve lo dico io, la maggior parte degli italiani non deduce le donazioni che potrebbe dedurre. Perché? Un po' perché ormai ha fatto la donazione, chi se ne frega di mettere, di fare le aspetto burocratici, un po' per timore. La normativa non è necessariamente semplicissima per chi non è nel settore. Perché per esempio capire la differenza fra un'organazione di volontariato iscritta e non iscritta o una volontariato che usa la partita doppia o non usa la partita doppia non è cosa proprio per chiunque. Per me che ci lavoro è pane quotidiano, ma per una persona che fa tutt'altro non è la prima cosa che si va a vedere. E se io, e visto che non ho bisogno di nessuna ricevuta, nessun attestato, io piazzo il mio bonifico dentro la mia dichiarazione dei redditi e la cosa va avanti. Se un domani arriva un controllo e quell'ente che io pensavo possesse essere beneficiario del contributo non lo è, ho delle sanzioni molto pesanti. Onde evitare il rischio di essere queste sanzioni, più elimino il problema all'origine e quindi se ne fregano. Ora, invece, utilizzando uno strumento di questo tipo, che è chiaramente certo, è sicuro, è garantito che le mie donazioni posso comunque dedurle, nel momento in cui la fondazione dovesse erogare questi soldi, in modo sbagliato, magari sulla base delle mie indicazioni, cosa che è difficile perché la fondazione è questo come mestiere e quindi non dovrebbe, però supponiamo pure che sbagli e fassi delle cose che non sono di utilità sociale, magari sulla base delle mie indicazioni, la responsabilità è della fondazione. Perché formalmente i soldi sono suoi e quindi io non sono assolutamente, nessuno può venirmi a accusare e il fisco, io sono assolutamente protetto. Un ultimo aspetto è che questi enti, e questa è una delle ragioni per cui non gestiscono progetti, tutta una però, non hanno rischio imprenditoriale. Perché essendo un ente che eroga, eroga i soldi che ha, se non ce li ha, non li eroga, quindi non si trova a dover fare dei debiti. Mentre se io sono un ente operativo, profit o non profit è irrilevante, ho un rischio imprenditoriale, nel senso che posso fare dei debiti e poi posso non avere più la possibilità di fare questi debiti, cioè di pagare. Questo può essere, e quindi cosa succede? Che se io voglio creare un fondo, risorse per una determinata organizzazione e per un determinato fine, quindi a favore di quell'organizzazione che realizza quel fine, e questa organizzazione per colpa sua o di altri non mi interessa, entra in crisi e se questi soldi li ho dati a lei, i creditori naturalmente prendono questi soldi. È giusto, è normale così. Se invece ho creato un fondo presso la fondazione, l'ente fallirà, va bene, ma quei soldi non possono essere aggrediti da nessuno e quindi saranno a disposizione per finanziare nel futuro attività analoghe. Non ci sarà più quell'ente libero, quell'ente libero non c'è più, ma ci saranno altri enti che più o meno fanno queste cose. Questo può essere particolarmente interessante per tutto quel discorso del dopo di noi, dove un elemento importante è proprio quello di creare dei patrimoni che siano garantiti e che devono durare nel tempo. E quindi una roba che invece, perché qui pensiamo a 20, 30, 40 anni e quindi l'ente cambiano, le persone cambiano e quindi quello che è l'ente perfetto oggi, magari fra 20 anni non è più così perfetto. Quindi creare un salvadanaio in un luogo dove non ci possono essere rischi può essere rilevante e interessante. Questo tanto per dare un'idea del tipo di garanzie è che queste fondazioni possono mettere a disposizione dei donatori. L'altro elemento importante è la semplicità. Io voglio donare, voglio godere l'emozione e la bellezza del dono, non voglio avere problemi, non voglio dover affrontare tutta una serie di aspetti burocratici e amministrativi che invece sono costretti ad affrontare al momento in cui operano nel nostro tempo viviamo. Allora, l'idea è che le fondazioni si fanno di fatto carico di tutti questi oneri. La costruzione del fondo è una roba semplicissima, lo posso fare per scrittura privata se è di modo in identità oppure se vai a intaccare il mio patrimonio lo devo fare per atto pubblico. Per le imprese faccio tranquillamente per scrittura privata. Non è necessario fare statuti, ottenere riconoscimenti perché il riconoscimento ce l'ha già la fondazione ospitante, quindi non mi devo preoccupare. Non devo costituire organi, se faccio una fondazione devo fare un consiglio di amministrazione. Qui invece non devo fare niente perché c'è il consiglio di amministrazione già della fondazione e poi io darò le indicazioni su come spendere i miei soldi. Tutto quello che è la gestione amministrativa per cui contabilità, bilancio e via dicendo, è tutto a capo della fondazione ospitante. Quindi non mi devo preoccupare di questi aspetti qua, che sono anche aspetti complessi e in cui spesso è molto difficile trovare dei professionisti competenti, perché sono cose comunque marginali rispetto al settore nobinante. Tutte le incommence collegate alle erogazioni, che non sono poche, qui 40 gente del fondazione d'origine bancaria, quindi lo sanno, non sono cose onerose, ebbene tutte queste sono a carico della fondazione tranne quelle attività che voglio gestire in prima persona. La selezione dei progetti tendenzialmente è una cosa che voglio fare io, ma per esempio mandare la lettera no, magari preferisco non farla io, preferisco che la faccia la fondazione al mio posto. E infine, un'unica donazione, io personalmente, di norma a fine anno, sulla base di come il mio base familiare, faccio un'unica donazione, e poi quella donazione può servire per finanziare n progetti. Chiaramente in funzione dei soldi, perché io non sono decimi soggetti, però insomma, e quindi anche dal punto di vista di gestione dei rapporti col fisco è molto semplice, allego un'unica ricevuta, anche se poi ho finanziato 200 iniziative diverse. La flessibilità. Qui si parte dal donatore, quindi bisogna creare qualcosa che risponda alle esigenze del donatore, non si parte dal lente, non si parte dal progetto. E quindi si deve offrire al donatore di fare quello che vuole lui, e il donatore può decidere io voglio finanziare un progetto, o invece voglio creare il mio fondo. E se creo il mio fondo, io dal donatore posso decidere chiaramente il nome del fondo, le finalità, che chiaramente deve essere utilità sociale, ma può essere qualsiasi cosa, può essere qualsiasi utilità sociale, o l'ambiente, piuttosto che l'assistenza, piuttosto che la tutela, o la tutela in quel determinato comune, insomma, decido io quello che voglio. La durata. Io posso decidere che il fondo durerà fino a quanti sono i soldi, posso decidere che deve durare 10 anni e poi si deve chiudere, cioè tutte le soldi devono essere erogate, o posso decidere che deve essere per sempre, nel senso che creo un fondo patrimoniale con un patrimonio che non potrà mai essere speso, di cui le rendite verranno erogate. Come, cosa e quando donare? È assolutamente flessibile. Il ruolo che io donante voglio avere nella gestione del fondo. I soggetti che possono donare a quel fondo è aperto a chiunque, oppure solo i miei familiari, oppure nessuno, è una roba che... mia, solo mia. La destinazione è le donazioni. Le destinazioni devono andare a patrimonio, piuttosto che a disponibilità, riservi, insomma. Come devono essere erogate le risorse a favore dei progetti? Se vuole crearmi un comitato che dà delle indicazioni su come devono essere erogate le risorse, oppure no. Magari coinvolgendo la mia famiglia, sono esempi di questo tipo. Come deve essere investito l'eventuale patrimonio? Io posso affidarmi alla fondazione, alle competenze della fondazione, posso dire no, i miei soldi a patrimonio devono essere vestiti tutti in migliori. Come è la cosa migliori? Come è la cosa migliori? Come è tenente, io voglio vincere tutti in buono. E basta. E la cosa si finisce. Quali informazioni, come detto prima, devono essere pubbliche e quali invece mantenere assolutamente private? Voglio il total anonimato? È chiaro che avrò il total anonimato. Voglio la massima comunicazione? Avrò la massima comunicazione. Dipende da quello che voglio io. E come gestire le eventuali modifiche nel tempo? La finalità è questa, poi invece il mondo cambia e voglio avere la possibilità di vivere. Un altro elemento interessante è che io posso utilizzare questi fondi per testare l'idea, magari voglio crearmi la mia fondazione, ma prima di crearmi la mia fondazione, cosa comunque complessa, difficile, con risorse ridotte mi creo un fondo e inizio a vedere come gira il fumo, com'è che funziona la filantropia e acquisto competenze con un investimento molto ridotto. Se dovessi creare la mia fondazione dovrei fare un investimento d'altro tipo, avrezzo con un'altra serie di problematiche. L'ultimi esempi riguardano l'economicità ed efficacia. Beh, chiaramente essendo ONLUS hanno i maggiori benefici fiscali vigenti, adesso è l'ultimo che me li spieghi quando lo conosciete meglio di me. Un aspetto di cui non tutti sono consapevoli è che a seguito della modifica della nozione di beneficenza nella legge sulle ONLUS, passando attraverso questi intermediari filantropici, io posso finanziare, avendo il beneficio fiscale, progetti di utilità sociali fatti da enti che non sono ONLUS. L'esempio più comune è la parrocchia. La mia parrocchia organizza una vacanza per disabili, se io, persona fisica, dono la mia parrocchia per la vacanza per disabili non posso dedurre un centesimo. Se io invece utilizzo la mia fondazione di comunità, facendogli una donazione modale a favore della vacanza per disabili della mia parrocchia, e la fondazione lo accetta, a quel punto quei soldi andranno alla parrocchia. Però io lì posso dedurre dalle tasse, quindi potrò avere un beneficio pari alla mia aliquota marginale, cioè dal 23% fino al 46%. Quindi questi sono aspetti che possono essere interessanti, di cui magari non tutti sono consapevoli. altro elemento importante a cui ho accennato, che è possibile dissociare il momento della donazione dalla scelta del progetto. Il nostro fisco ragiona rigorosamente per cassa. Cosa vuol dire? Che io nella dichiarazione di redditi del 2011 posso inserire solo tutte le uscite di cassa fatte nel 2011. Se non frutto il mio margine non lo posso riportare all'anno successivo. L'ho perso, basta, le donazioni lo devi fare nel 2011. Ora invece normalmente noi tutti ragioniamo un po' per competenza, nel senso che diciamo come è andata le mie entrate del 2011 e a fine anno facciamo i conti, vabbè, posso destinare 1.000 euro, 100 euro, 10.000 euro, quello che è in beneficenza. Però il fisco dice ok, mi devi fare l'erogazione entro il 31-12. Ma non è detto che io se lo decido il 30-12, il 30-12 abbia lì davanti i progetti a cui devo dare i soldi, no? E se non li do entro il 31-12, passa l'anno dopo e dopo magari le condizioni sono cambiate e quindi quel beneficio non lo potrei più ottenere nei stessi termini. Allora io cosa faccio? Io il 31-12 faccio il mio bonifico presso il mio fondo, presso la fondazione, e quindi a posto, dopodiché con calma, magari con mesi di ritardo, magari anche con anni di ritardo, come è capitato, decido, prendo questi soldi da quel progetto piuttosto che quell'altro. Per cui io il beneficio l'ho già capitalizzato. E la scelta dei progetti la faccio quando effettivamente c'è il progetto che mi interessa. Oppure supponiamo che io voglia fare un qualcosa di molto rilevante che supera il mio beneficio fiscale annuale. Allora voglio accumulare quelle risorse che quando arrivano a quel livello lì. Col fisco attuale questo non lo posso fare. Usando la fondazione lo posso fare. Ogni anno accumulo e poi quando raggiungo la cifra che mi piace, dico, bene, utilizza questi soldi per fare quel progetto lì che era quello che avevo in mente da tanto tempo. Oppure se sono un'impresa, io come impresa saprò che avrò un'identità ciclica. E quindi saranno degli anni in cui avrò dei margini consistenti e altri anni in cui non avrò margini zero. Ma se io voglio gestire le mie risorse filantropiche non semplicemente come beneficenza ma come investimento sociale in una logica di lungo periodo, allora queste oscillazioni mi possono creare i problemi. Allora cosa faccio? Io erogo quello che il mio beneficio fiscale mi chiede di donare. Ma poi destinerò ad erogazione solo quella quota che mi permette di avere un discorso di lungo periodo. Per cui l'anno grasso non erogherò tutto, erogherò solo una quota. L'anno magro andrò a mangiarmi le risorse che nel frattempo ho accantonato. Altro aspetto importante, abbiamo visto prima uno degli ostacoli, era l'isolamento. L'altro aspetto importante è che la fondazione mette assieme tanti donatori. E quindi eventualmente è in grado anche di vedere che ci sono due o più donatori che magari hanno interessi simili e che potrebbero avere interesse a collaborare assieme. Magari si conoscono anche, però non hanno parlato di questo tema fra di loro, perché non è necessariamente un tema in cui si discute la seme. E quindi la fondazione può essere in grado di comunicare a queste gente, guardate, che forse vi interessa mettere insieme le risorse e quindi può catalizzare le risorse. Un'altra ragione per cui ho detto che è bene che le fondazioni comunitarie non gestiscono progetti propri, è proprio per avere la massima obiettività nei confronti dei donatori. Se io gestisco il mio progetto, la tentazione di indirizzare i donatori verso i miei progetti è reale, insomma, o comunque anche se non c'è, c'è sempre il dubbio che ci sia. Se io non ho progetti posso effettivamente mettermi alla parte del donante e essere lì, fare quella funzione di consulente filantropico e dire, ah, tu hai questa esigenza, sei proprio sicuro che questo è il modo migliore, vedi che ci sono queste alternative, dopodiché uno sceglie, ma sapendo che non ci sono conflitti di interesse dall'altra parte per cui mi vogliono far mandare i soldi sui delfini quando a me interessano le orche. Perché, insomma, alla fondazione interessa che il donante sia contento, non ha altri interessi da gestire. Come c'è andato prima, l'assimilizzazione di benefici di immagine piuttosto che economia e naturalmente economia di scala nella gestione. Io non ho il bilancio 1, tutta una serie di aspetti amministrativi sono uno solo e quindi non mi devo preoccupare, quindi i costi si riducono drasticamente. E anche per quel che riguarda la gestione finanziaria patrimoniale. La gestione finanziaria patrimoniale, secondo uno dei patrimoni, è oggi estremamente complessa, implica masse di un certo tipo, la diversificazione, e implica competenze di un certo tipo, che sono possibili, sono una delle masse di un certo tipo. Quindi, se ognuno si fa la sua piccola fondazione, poi è difficile che possa sfruttare i vantaggi della finanza. Infine, l'altro elemento interessante è che se io faccio una fondazione, i miei costi li saprò a fine dell'anno, quanti sono stati i costi, se io faccio un fondo di norme, i costi sono predefiniti. Io saprò che, per esempio, la fondazione Comasca chiede a me lo 0,5% delle mie donazioni che utilizza per coprire i costi di gestione. Secondo me è troppo basso, però possono trovare in me. In ogni modo, io so già quanto della mia donazione andrà in gestione e quanto andrà nei progetti che mi interessano. Se io faccio la mia fondazione, lo saprò al fine, quando effettivamente i conti li porto avanti. Ora, nel portare avanti questa tipologia di fondazioni, è possibile immaginare tutta una serie di partner che possono avere un interesse a collaborare con una fondazione di comunità. I primi partner sono gli enti di erogazione presenti sul territorio. E quando parlo di enti di erogazione, parlo chiaramente di altre fondazioni di erogazione, non sono statunzioni bancari o meno, ma parlo anche della curia, parlo anche delle BCC, parlo quindi di tutta una serie di soggetti che per statuto, legge o quello che sia, erano contributi sul territorio. Ora, in questo momento storico di parte particolarmente madre, questi enti possono considerare interessante poter utilizzare le loro risorse come leva per mobilitare risorse ulteriori da parte della comunità. D'accordo? Ora, però, questi enti spesso non sono strutturati, né da un punto di vista fiscale, la maggior parte non è onus, quindi non può dare i benefici che ho detto prima. Né da un punto di vista di gestione amministrativa, significa raccogliere tutte donazioni modali, quindi significa una gestione amministrativa e contabile molto molto sofisticata, di cui questi enti normalmente non hanno gli strumenti per farlo, li possono fare, ma in un momento non hanno. Né in termini di immagini. Cioè, non funziona che la fondazione Cariplo, visto che io vengo da lì, chieda alla gente di donare attraverso la fondazione Cariplo. Non viene spontaneo uno donare attraverso la fondazione Cariplo. Diventa anche difficile donare attraverso il proprio comune. Non sono soggetti che hanno un'immagine che facilita la donazione, per ragioni che potete ben immaginare. Allora, cosa succede? Quale sono uno strumento che posso fare? E vi garantisco che funziona, perché abbiamo centinaia di esempio, anzi migliaia. Io, entro in derogazione, individuo tutta una serie di iniziative. E l'individuo, con un bando, senza bando, comunque, individuo una serie di iniziative. E dico, ad ognuno di questi progetti do x a condizione che arrivino dalla comunità donazioni pari a x, un mezzo di x, un doppio x, la percentuale che stabilisco io. Questo non è il cofinanziamento. Il cofinanziamento è diverso. Il cofinanziamento, che è importante, dice che l'ente deve avere risorse oltre le mie. Ma non dice che devono venire da donazioni. Possono essere, anzi, gestioni, possono essere attività commerciali, possono essere qualsiasi cosa. E il cofinanziamento indica quanto l'ente risposta a scommettere sul proprio progetto. Perché, chiaro, se tutto viene finanziato dai terzi, insomma, la cosa, perché tutto. Ma non ci dice quanto la comunità è interessata a quel progetto. Nel momento in cui, invece, io faccio questo, noi lo chiamiamo bando con raccolta, è semplicemente la lista dei progetti e la montagna delle donazioni che devono arrivare per far scattare il contributo dell'interrogante. Se io questo lo metto in piedi, ho una serie di benefici abbastanza interessanti. Il primo beneficio è che, chiaramente, moltiplico le risorse, nel senso che, se io erogavo 10, se non rapporto in 1, erogherò 20. Quindi, in questa fase non devo buttare via. Ma, al di là di questo, ho un indicatore reale dell'interesse che quel progetto suscita nella comunità. E quindi, ho un indicatore che mi aiuta a capire se effettivamente quel progetto serve alla comunità. Perché il grosso rischio dell'ente di erogazione è di fare delle cose che non neanche niente nessuno. E quando i soldi dell'ente finiscono, il progetto immediatamente, anzi, qualche secondo prima, crolla e la cosa si chiude. Mentre in questo modo ho, e se la gente inizia a donare a quel progetto, poi lo sente come proprio. Perché il cavallo donato non si guarda in bocca, ma quando ci ho messo le mie risorse, voglio che il progetto funzioni. Non è una roba fatta dagli altri, bene, grazie, tutto, ma è una roba che diventa mia. E quindi questo crea le condizioni di una maggiore sostenibilità delle stesse iniziative nel tempo. Oltre a creare le condizioni della comunicazione. Perché spesso e volentieri di questi enti erogano tutti questi contributi, lo sanno loro che gli hanno dati e quelli che li hanno ricevuti. E nient'altro. Ma nel momento che devo raccogliere donazioni, sono costretto costretto a comunicare. E quindi la comunità viene a sapere sia le opportunità che ci sono di fare le cose belle, ma sia anche del mio lavoro come ente d'erogazione. In questo modo ho la possibilità appunto di avere tutti questi benefici. Ma come ho detto prima, farlo in prima persona può risultare complesso, perché è una struttura fiscale, è una struttura amministrativa e non ho la figura adatta per quale questa funziona. Allora cosa faccio? Io do in outsourcing alla fondazione di comunità la gestione e la raccolta di queste donazioni. Se le donazioni arrivano, il contributo parte. Se le donazioni non arrivano, il contributo chiaramente viene revocato e lo darò ad altri progetti. E questo vi garantisco che funziona. funziona al 95% su centinaia e centinaia di progetti. E in alcuni casi, cito sempre degli esempi, in alcuni paesini, in montagna, lì dove c'è la comunità più forte, è capitato un paese di 1000 abitanti, 135 donazioni. Praticamente non c'è stata famiglia che in qualche modo è stata coinvolta. Ed è chiaro che significava che quel progetto era un progetto importante. E quel progetto ha coinvolto tutta la comunità e quindi ha dato un contributo a quel capitale sociale di cui si diceva prima. E quindi questo è un modo attraverso cui un ente di erogazione può considerare utile la presenza di un'infrastruttura di questo tipo assolata. Gli stessi enti non profit, chiaramente sono interessati a ricevere i contributi, ma possono essere interessati anche a portare donatori. Perché questo? Abbiamo detto prima che uno dei problemi è proprio quello della fiducia. Allora io come ente non profit, cosa faccio? voglio dare maggiori garanzie ai miei donatori. Allora, cosa faccio? Inserisco un ente terzo che ha come compito di verificare che effettivamente io stio utilizzando quelle risorse esattamente come voglio il mio donante. Per cui è come se mi mettessi sotto una sorta di tutela, nel senso di un garante, che effettivamente andrà a verificare che i soldi che mi hai donato io li ho spesi veramente per quelle pubblicità. Oltre al fatto eventualmente di, se non sono un ente onlus, di offrire ai miei donatori, per quel meccanismo che avevo raccontato prima, i benefici della onlus, che altrimenti non potrebbero avere. Oltre al fatto che nel momento in cui io intendo portare avanti, per esempio, una campagna lasciati, adesso è sempre più cittadina che questo può essere un mercato molto interessante. Studi mostrano come i patrimoni delle famiglie che si estingueranno per mancanza di eredi diretti, in Italia nei prossimi anni sono oltre i 100 miliardi di euro. Per cui, insomma, cifre da non buttare via. Quindi non hanno eredi, potrebbero andare nipote, ma potrebbero andare anche al piano sociale. L'esperienza però dice che a volte, soprattutto per enti piccolini, ricevere un lachito distruggerebbe. Cioè, di un caso in cui l'ente che funzionava perfettamente, sono arrivate questi soldi e l'ente è entrato in crisi. È come quello che vince la lotteria e finisce, che prima avevano un lavoro e tutto, e finisce a fare il barbone dopo un po' di tempo. Questi esempi ci sono. Oltre al fatto che l'ente di norma non ha quelle competenze finanziarie per la gestione di patrimoni e quindi rischia di gestire di mano. Allora può essere interessante per lui crearsi un proprio fondo dedicato presso la fondazione, le cui risorse dovranno essere utilizzate esclusivamente per finanziare i propri progetti sociali, ma che non sono il capo all'ente. E che quindi non mi creano i problemi che ho accennato prima e tendenzialmente potranno essere gestiti un pochettino meglio. Un'altra tipologia di partner sono i professionisti. È importante far capire a loro che questa non è la fondazione di comunità, non è un altro ente che cerca soldi. È uno strumento. Non si dona alla fondazione di comunità, ma si dona attraverso la fondazione di comunità. Quindi è un modo che il commercialista può utilizzare per aiutare il proprio cliente a massimizzare il beneficio fiscale. È un modo in cui il notaio può utilizzare davanti a un cliente che magari ha 500.000 euro, che non sono proprio da buttare via, ma che con 500.000 euro non mi faccia nessuna fondazione, cioè butterei gli soldi se facessi la fondazione, mentre fare un signor fondo presso una fondazione di comunità. E quindi è uno strumento in più. È un modo attraverso cui il promotore finanziario si garantisce che i soldi di quel suo cliente, quando il cliente non ci sarà più, rimarranno gestiti da lui. Perché chiaramente, visto che noi siamo destinati a scopparire, quando i soldi finiscono chissà dove. Mentre se questo qui è creato un fondo nel testamento presso la fondazione grazie a lui, grazie all'intermediazione finanziaria, è chiaro che non gli si sporta lì, è per ragioni evidenti. E ci sono dei casi in cui, grazie a questo, poiché questi qui non lo facciano per questa ragione, è un altro discorso, però è un altro esempio per cui l'interesse del professionista e l'interesse della fondazione possono unirsi. Ognuno per il bene comune. Altro settore, altro soggetto che può essere interessato a stabilire rapporti sono le categorie, le quali sempre di più vogliono portare avanti le responsabilità social di imprese, vogliono mettere a disposizione dei propri soci, dei propri associati degli strumenti adeguati per portare avanti questa cosa. Un altro mondo che è tendenzialmente interessato sono quello dei medici e dei religiosi. Anche essi hanno rapporti molto stretti di norma con i potenziali donatori e possono aiutare questi donatori a realizzare i loro obiettivi. Attualmente la fondazione di comunità che ha raccolto di più in questi dieci anni significa oltre i 10 milioni di euro, senza considerare assolutamente contributi da parte di fondazione del registro bancario, tutti i soldi e rapporti sul territorio, era la fondazione Innovare. E i primi grossi lausidi sono dovuti grazie all'intermediazione dei benefici. Ora, detto questo, chi deve essere in promotori nel momento in cui si decide di dare vita ad una fondazione di comunità, è importante creare un gruppo che poi la promuovano. Ebbene, inizialmente si era lavorato in termini di rappresentanti delle varie realtà fallimentali. È fondamentale la prima condizione, ma veramente la prima condizione è che siano dei donatori. perché è fondamentale che siano dei donatori? Uno, non posso andare in giro a dire il dono è un'opportunità e poi non dono io. Non suona, risulta che non va bene, non passa il messaggio. Un mondo fra l'altro in cui domina il sospetto. Due, io nel momento in cui dono, se il dono è quello che è, genera l'entusiasmo. E questo entusiasmo lo riesco a comunicare. Se questa esperienza non ce l'ho, non riesco a comunicare. Mi viene una cosa sbagliata, non funziona. Terzo, da un punto di vista puramente amministrativo, se io sono chiamato a governare un ente di cui non usufruisco dei servizi, non capirò se quell'ente sta operando bene. Non capirò se veramente sta trattando i donatori come li deve trattare o se li tratta male. Non sarò in grado quindi di capire se la struttura opera come dovrebbe operare o meno, perché non la capisco. Andrò a guardare cose che non c'entrano niente, non guardarò le cose rilevanti. E per questo è fondamentale, è la prima condizione, che chi decide di promuovere questa cosa sia gente che la vive in prima persona, come donatore. L'altra condizione è chiaramente che siano persone in grado di generare fiducia, perché è evidente, se è uno di cui la gente ha dei dubbi, in quel posto non va bene. Terza, bisogna che sia una compagine abbastanza articolata, abbastanza diversa, in cui in qualche modo la comunità possa riflettersi, in cui in qualche modo chiunque nel territorio possa individuare all'interno di questo gruppo una persona con cui si può relazionare, perché è in grado di capirlo, non è un mondo assolutamente sconosciuto a loro. E quarto, chiaramente, che abbiano relazioni con i partner di prima, perché poter lavorare con questi partner di prima è una cosa utile e non importante. Detto questo, in termini operativi, qui vado più veloce perché vi avevamo detto che non vi interessa, ma in termini operativi ci sono tendenzialmente tre strade che possono essere eseguiti. Io posso creare un comitato informale, questi promotori si organizzano informalmente, preparano statuto, bilancio, piano strategico, operativo e dopodiché si costituiscono, raccolgono in patrimonio di stessa rapportazione e si costituiscono. Questo, per esempio, è la strada che quando gestivo il progetto carico era quella che si è fatta sempre. O diversamente posso decidere di costituire formalmente questo comitato, ottenere l'iscrizione al registro delle ONRUS, quindi iniziare già a operare, prima ancora di diventare fondazione. E questa è un'altra modalità. A Parma stanno riflettendo su questa ipotesi. O infine, recentemente è stato costituito il Comitato del Dono, che è come se fosse una fondazione di comunità a livello nazionale, di cui il Presidente Zamagni. E quindi io posso decidere di utilizzare questa roba qui come agente fiscale che mi gestisce le donazioni e tutto, fino a quando io non mi sarò effettivamente costituito come fondazione. E in tutto ciò voi potete chiaramente contare sulla nostra assistenza. Siamo in sezione di categoria fra le fondazioni e gli enti erogazioni, è una struttura piccolina, adesso siamo circa 80 soci, ma stiamo crescendo, negli ultimi tre anni siamo quadruplicati. Sicuramente siamo leader in Italia per quello che riguarda le intermediazioni filantrofiche, questo non è brutto farsi anche oggi, però su questo sono tranquilli. E assistiamo chiunque voglia operare in questo settore. Ma per finire, quello che è importante, l'idea che deve stare alla base di questi sforzi è che il vero obiettivo non è illudersi di risolvere i problemi della comunità. Poveri ce li avrete sempre, insomma non funziona. Si tratta invece di creare opportunità sfruttando al massimo gli incentivi e le possibilità presenti sul territorio affinché un numero di persone possano effettivamente vivere la stupefacente esperienza del loro, perché è questo che a mio avviso alla fine creerà e renderà le nostre comunità migliori per le persone. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.